Buongiorno a tutti, questo è l'ultimo giorno qui a Di Maro, il ritiro del Napoli. Il Napoli infatti dopo l'amichevole di oggi contro il Carpi, ritornerà a Napoli e quindi poi inizierà la stagione 2013-2014. Come vedete qui oggi abbiamo un ospite davvero speciale, l'inviato di Al Jazeera Abdel Majid. Buongiorno. Buongiorno. E il collega Roberto Ventre, da poco si è conclusa la conferenza stampa di chiusura di questo ritiro del Napoli con Benitez che ha fatto un bilancio. Qual è il bilancio? Bilancio molto positivo e soprattutto Benitez ha ribadito che auspica una stagione importante, lo ha ribadito sia in campionato sia in Champions, detto noi dobbiamo essere competitivi, dobbiamo restare nel gruppo di squadre di alta classifica, quindi a ridosso della Juve che ha ribadito è la favorita per il prossimo titolo, essere lì fino alla fine pronti poi per sferrare l'assalto. E quindi ha ribadito questa volontà, ha elogiato tutti del gruppo per l'impegno e l'applicazione mostrata in questi 15 giorni, però ovviamente precisando che chiaramente quando si cambia tanto si cambia modulo c'è ancora da lavorare e c'è da migliorare su diversi aspetti. Ecco tu sei venuto qui a Di Maro oggi per poi assistere diciamo alla presentazione di Guain che poi non c'è stata. Sì, normalmente è che Algezira è interessata tanto all'arrivo di questi giocatori, vogliamo fare un lavoro speciale per Algezira, una diretta con Qatar, con i nostri studi a Qatar per trasmettere la conferenza stampa e di più faccio un servizio sui giocatori argentini. Però il problema è che finora non sappiamo nulla, non abbiamo idea quando sarà questa conferenza e poi l'esperanza che viene fatta nel stadio di San Paolo nella partita contro Galatasaray. Ecco il Napoli che adesso si affaccia davvero a scenari europei molto più ampi. il Napoli sta diventando una squadra davvero importante al pari poi delle grandi d'Europa. Napoli è già una squadra importante negli anni 80 possiamo dire, quando era Maradona, quando erano giocatori importanti. Adesso sta tornando la rinascita di Napoli in questi ultimi anni e credo che questo anno sarà protagonista. Non è che Napoli lotta solo per la terza o la seconda posto, lotterà anche per lo scodetto perché vedo che non hanno tutte le condizioni per essere una squadra grande per poter combattere anche la Juventus. Non solo quello ma Napoli questo anno mi sembra anche una grande squadra sul livello europeo. Magari farà un grande percorso, magari una prestazione molto importante nel Champions League. Quali sono i calciatori del Napoli che all'estero vengono più apprezzati? Di chi parlate soprattutto? Parlavamo prima di Cavani, Cavani è andato, c'è adesso Amsic e poi Hiller, che sono questi giocatori che sono poi anche Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro scusami, che ha già un nome legato al suo fratello Fabio Cannavaro, che è un ambasciatore del calcio italiano nel mondo arabo. Possiamo dire che questo anno credimi che tutti i giocatori di Napoli saranno ricordati dai tifosi arabi. Io ho visto tanti tifosi che hanno con la malietta di Napoli il mondo arabo, questo significa che la squadra è arrivata già nel cuore dei tifosi arabi. Dopo 15 giorni di ritiro, i promossi e bocciati? Beh, promosso i tifosi del Napoli, innanzitutto perché sono stati numerosissimi e devo dire che si sono anche comportati in maniera esemplare. Sicuramente promosso Benitez, che ha ribadito di essere davvero il nuovo leader per il grande carisma, per la grande capacità anche di comunicare con la gente. Bocciati, è brutto dire dei bocciati. Diciamo che ci sono dei giocatori che erano qui sotto osservazione dell'allenatore per vedere se erano ritenuti all'altezza di poter fare parte di questo Napoli e da qualcuno di questi ci si aspettava un qualcosa in più. Magari adesso è un po' presto per tirare le prime somme, no? Sì, anche se l'idea di quello che sarà il Napoli nella stagione è già molto chiara di Benitez. Benitez lo ha ribadito ancora una volta oggi, cioè una rosa competitiva di 22 giocatori, tutti allo stesso livello, quindi in modo che ci sia un'alta competizione per guadagnarsi la maglia da titolare. Per cui la rosa per grandi linee è già delineata, ora ovviamente dopo l'acquisto di Guain si attende un altro attaccante, poi qualcos'altro sarà fatto in difesa e verrà quindi completata. Ancora una volta oggi, in tal senso, parlando anche di qualche singolo, Benitez si è espresso in termini molto positivi su Paolo Cannavaro, come tra l'altro che è stato citato dal collega di Algezzira, definendolo un grande professionista e che si giocherà alla maglia con gli altri difensori, perché è ribadito su questo aspetto. Non ci sono titolari per poter competere al meglio in Champions e in campionato, tutti devono assimilare al meglio questa filosofia. Ci sono cinque attaccanti per tre maglie, ci sarà spazio per tutti. E questo è uno degli aspetti che ancora una volta Benitez ha ribadito, per poter pensare in grande bisogna assimilare questo concetto. De Laurentiis all'essero, come viene visto? A livello mediatico qual è la sua figura? Diciamo, se parliamo di Laurentiis, uno che ha dato la rinascita alla Napoli, è visto come un personaggio positivo nelle vite di Napoli, e ha un grande stima dei tifosi arabi, considerando che con i suoi sforzi ha dato una vita a una squadra che tutti dicono che è già finita, non si può tornare come prima. Per me De Laurentiis è uno dei figuri anche del calcio italiano, non solo anche il calcio ma anche le figure sul livello cinematografico. Per me De Laurentiis rinforza la sua immagine adesso con questi nuovi acquisti, con Napoli che lotta per lo scodetto questo anno. Per concludere facciamo un piccolo pronostico. Il Napoli a che posto si può posizionare in campionato e dove può arrivare in Champions? De Laurentiis sempre rimane in Napoli come squadra, può magari lottare come detto sul scodetto, può magari vincere lo scodetto, però il minimo risultato è il secondo posto. Champions League può essere la sorpresa di questo anno Napoli, può essere magari protagonista di una nuova vittoria in Italia, questo titolo è molto importante. Roberto, giro anche a te la stessa domanda. Diciamo che andrebbe benissimo tutto quello che ha detto il collega, sarebbe fantastico, primo o secondo in campionato, sono presi in Champions arrivare magari fino in semifinale, sarebbe veramente straordinario, però è chiaro che bisogna partire con questa mentalità di essere competitivi e di voler arrivare al massimo, ci sono i presupposti per una stagione importante, grazie soprattutto alla campagna acquisti che sta mettendo in atto la società. Però bisogna anche procedere un passo alla volta, perché quando ci sono dei cambiamenti, cambiano l'allenatore, cambiano 5-6 giocatori, cambia il modulo, è chiaro che volere tutto e subito può essere un boomerang, per cui con un passo alla volta, però le basi di partenza sono sicuramente positive. Noi siamo arrivati ai saluti finali, io davvero voglio ringraziare tutti, in primis il direttore del mattino Alessandro Barbano che ci ha dato la possibilità di queste dirette qui a Di Maro, poi il capo dei servizi sportivi Francesco De Luca, tutta la redazione web partendo da Paolo Barbuto, Marco Piscitelli, Marco Perillo, Maria Pirro e Chiara Graziani, spero di aver citato davvero tutti, e poi volevo ringraziare soprattutto te e Roberto per questa possibilità, per questa occasione, veramente mi sono trovata benissimo. Grazie a voi per l'entusiasmo, la professionità e per l'impegno. Noi speriamo davvero che ci possano essere altre possibilità, ringrazio anche il collega di Al Jazeera, davvero molto gentile, e speriamo che possa seguire un Napoli vincente quest'anno. Grazie a voi per questa occasione e credo che la Napoli sarà un protagonista questo anno. Grazie a tutti, arrivederci.